è il momento di dire sono io sono qua eh sono io si mi chiamano mi chiamano Richelay con i zombie che ero sopravvissuta da molto tempo quello che io mi chiamo sono il capitano da Richelgol e lui mio amico amico mio compagno si chiama Griffon Gandavay e sono venuto a presentare la mia vendetta solo tu l'hai fatto prima a uccidere il nostro amico e il nostro fratello amico e cugino di Bralle West il capo di Abrella con Palenzo venne la moglie del suo marito di Alice Ali vero? Renzi di Ivo è proprio così è vero è proprio così ha ragione ma purtroppo è così eh questa è quella dannata videocamera che sta nel riprendo è proprio questo che prendi? si e come mai vuoi li prendere dopo? è per questo che dove la gente devono vedere quella cazzo di agio quella fottuta gente lo so che non te rei sia un cazzo vero? non hai idea o niente che cosa potrei farci nulla vero? cosa? beh diciamo che è una vendetta eh solo che c'è una detizione e c'è l'arte quella tua merda di pattaloni crisi a putta madre cambrò cosa hai detto? lo conosco il paese spagnolo eh hai detto una pallaccia non è così? si portatelo fuori aspetta che cosa aspetta hai avuto un problema? si c'è un problema che devi farlo va bene? e qual è il problema? c'è una possibilità di farlo c'è una decisione alla fine del mio padrone capo lucifrema crema e calche potere satana il figlio è un unico figlio di abba ripote satana il servo di satana è nipote di lucifero e le sue ocche di una madre l'unica c'è e tutti i tanti Hogwarts di inferno e lui era un principe di Hogwarts di inferno e io sono un cugino di gollo lì figlio di gollo smigol il servo di saro abba ripote satana abba ripote satana e e lucifero satana ah ecco lo sapeva che tu era il tuo cugino che vuoi tentarlo vero? proprio così che io ti stavo al cielo orcando di te abbiamo parlato solo per il mio giochetto eh proprio così eh ci ho trovato di molti anni che tu non lo cercavi eh proprio così eh tu lei hai proprio ucciso proprio hai cominciato a prenderti e arrenderti si ma ma è così eh ma il brale questo non è stato ucciso è stato svenuto ora sveglierò solo che devi svegliarlo si eh svegliati cosa? cosa mi hai fatto? arrivo un attimo solo che ti sei svenuto eh si ma questo è su oh 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 no non ti muovere è solo una morsa che ho potere ora è il momento di esitarli ora lucifero mio capo padrone mio padrone ma è il mio maestro è il momento di fermarli che ho potere io che ho potere Grazie a tutti.